carissimi amici del canale telegramma dentro la notizia cose mai viste in medicina si stanno osservando negli ultimi mesi e non sono certo sorprese piacevoli per coloro che si ritrovano nel corpo coaguli lunghi 10 pollici ossia 25,4 centimetri come quello riferito e mostrato in foto dall'imprenditore steve kirsch un tempo fedele alle cause dei dem fino al momento del risveglio avvenuto di recente a testimonianza che questo è il tempo della verità e della separazione semplificando appare sempre più chiara la distinzione tra bene e male ma torniamo al coagulo rimosso da una persona in vita a cosa è dovuto perché questi fenomeni si stanno manifestando solo ora speriamo anche quest'oggi di poter offrire informazioni di vitale importanza almeno per alcuni potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su youtube e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby